Amore questo è il famoso pozzo dei desideri cioè praticamente se butti questa monofila dentro esprimi il desiderio e il desiderio si esaudisce. Non me lo dire? Funciona! Quillo mi devi promettere una cosa ora non ora è però al momento opportuno cioè se io muoio ti devi sposare con marchino marchino ma tu hai un marchino appunto perché continui a guardare quella lì perché è gratis